Buongiorno ragazzi, io sono CbS7 e ho attivito il BMW E3 di NASCAR EAT Allora... Qua c'è un'interazione Ce l'è proprio dove farete 5.000 cv CbS7 Boh, ragazzi, io ne ho trovato un minuto qualcosa Charlotte Cos'è cosa che ho detto? Cos'è cosa? Eh... E' un'interazione E' un'interazione Ed è un'interazione Quest'è che non so che ne ho fatto tra l'anno Ok Ok Via Vieni 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 Grazie per la visione! 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 Manca una sede ragazzi! Provo a meno ad avere una stella! Grazie per la visione! 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 Tutte e tre le stelle ragazzi! Tutte e tre le stelle ragazzi! Tutte e tre le stelle! Ok! Non serve niente per questo! Ok! Posso fare la gara! Ok! Ah! Inche niente! Uno... ...è un clean lap! No ma proprio! Infine bruttissimo ragazzi! ...deguardano... ...deguardano il nostro... ...deguardano il nostro... ...deguardano il nostro... ...deguardano il nostro... ...deguardano le stelle! ...deguardano le stelle... ...deguardano le stelle! Ok! All right, we got him right here. Set him up, get your mark on me. There you go. All right, we got him. All right, we got him. All right, we got him. Yeah, okay. You have never been here. I'm not going to have something new to me, that's cool. Ooh! Oh, man. Go, 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 go! I can't get him. I can't get him. I can't get him. I can't get him. Keep pushing. You get in the middle of the park front. Clear. Drive the car track. Great pass. Shake and bake. Oh, he nailed that challenge. Take a look. Yeah. You got him right here. Set him up. Get your mark on me. Keep it up. You're game is on. Light it out. Bring it home. So, uh, Bianca. We're gonna do things with your 12 o'clock. è vero la facciamo un'altra cosa si può essere un'altra macchina si può essere un'altra macchina si può essere un altro si lo so se mi capisce si può essere un certo in un'altra macchina proviamo la macchina oh si può essere un po' quindi ragazzi questa volta sarà ragazzino di dove ventino queste semplice della manca perché una gara no forse schifo schifosa interna così perché gara o che sono nella gara cosa che club vabbè ragazzi il mio video niente ok ragazzi come sempre per questo vi è piaciuto vedete che un po qua cosa devo fare qua ancora almeno distrazione 40 secondi ragazzi siamo anche tutti tutto il meglio ragazzi come sempre più quando vi è piaciuto o qua è r ricerca sviluppo r e di center ragazzi qua con noi non possiamo ricerche il veluco perché posso qua migliorare qualcosa posso sì sì per forza quando qui è il di veicolo select seleziona veicolo posso farla posso avere questa macchina ragazze ragazzi 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 che io avesse matica sono solo una ragazzi ragazzi anche se ne tagliamo ragazzi che è una cosa simpatissima ragazzi ragazzi da voi siete tutto bella guys ciao ciao ragazzi